Ciao, sono Jasmine Laurenti, artista della parola. Per quattro decenni ho prestato la mia voce a spot pubblicitari, a programmi radio-televisivi, ho doppiato attrici come Brooke Shields, Julia Ormond, Rose Byrne, Samantha Morton, Julian Moore, Renée Zellweger, solo per citarne alcune. Per quanto riguarda i cartoni ormai diventati dei caldo ho dato la mia voce alla Moon, a Kaori in City Hunter, a Tesifone nei Cavalieri dello Zodiaco, a Sailor Venus in Sailor Moon e anche qui la lista potrebbe continuare. La mia storia professionale subisce una svolta quando realizzo che le parole pensate e le parole pronunciate hanno uno straordinario potere creativo. Vale a dire che stimolo hanno una produzione di determinati tipi di ormoni che influenzano il nostro umore. Il nostro umore quindi condiziona le nostre scelte quotidiane, le nostre azioni che poi diventano abitudini, che poi diventano carattere. Insomma, le parole hanno il potere di trasformare la nostra vita, di cambiare proprio il corso della nostra storia. Da quel momento per me sono cambiate molte cose, perché è vero che la conoscenza rende liberi. D'altra parte tutta questa libertà richiede un grande senso di responsabilità. Con questo video vi presento ufficialmente il mio talk show viaggiante. A ogni tappa del mio viaggio incontro una persona che nel corso della sua vita ha ricevuto una chiamata e in questo modo ha intrapreso un percorso di trasformazione che lo ha portato a diventare un eroe dei nostri tempi. Un eroe che, consapevole del potere creativo delle nostre parole, li usa per fare del mondo, un mondo migliore. Caro eroe dei nostri tempi, mi rivolgo a te. The Jasmine Talk Show è il tuo spazio per parlare e dire al mondo quale sia la tua fonte di ispirazione, il tuo perché, cioè il motivo che ti spinge ad agire e il tuo speciale, originale e personalissimo contributo al mondo. Io la valigia l'ho fatta. Arrivo! Ciao a tutti!